Sapete che il gelato è un prodotto veramente particolare ed è unico nel suo genere da un punto di vista gastronomico. La sua caratteristica è quella di dover essere portato a temperatura negativa proprio per il suo consumo, quindi non semplicemente per la sua conservazione. E i fenomeni fisici a cui viene incontro quando viene mantecato sono molto particolari. Vediamoli insieme. Molti pensano che l'origine del gelato sia nel mescolare della neve, ad esempio a dei succhi di frutta, del miele e a degli ingredienti che si trovano a temperatura ambiente, raffreddati poi con la neve o con il ghiaccio. In realtà non c'è niente di più sbagliato perché il gelato è un prodotto che deve essere congelato in agitazione, quindi il suo processo di produzione parte da una temperatura ambiente o al limite frigorifere di 4 gradi e la conclusione del processo è quando questo prodotto ha raggiunto una temperatura negativa, di solito tra i meno 7 e i meno 11 gradi centigradi. Dato che le notizie storiche di cui siamo in possesso ci dicono che il gelato nasce tra il 1500 e il 1600, com'è possibile che i nostri antenati potessero arrivare a raffreddare a meno 10 a meno 12 gradi un composto senza avere le macchine da gelato, senza l'elettricità, senza i sistemi di raffreddamento a gas? Beh, in effetti non si può pensare alla nascita del gelato senza pensare alla scoperta del raffreddamento attraverso due componenti molto particolari, il ghiaccio e il sale. Come ho già spiegato in un video, e qui c'è il link se volete dare un'occhiata, il ghiaccio e il sale sono degli elementi che già da soli possono permettere di raffreddare qualsiasi composto ad una temperatura negativa, tipica del gelato. Ma cosa succede quando io metto la miscela di gelato all'interno di un mantecatore? Che sia un mantecatore verticale o orizzontale non importa, il processo è lo stesso. Abbiamo un raffreddamento della camera e spesso questa camera viene raffreddata parecchio per poter consentire una cristallizzazione dell'acqua in termini molto molto minuti piccoli, cioè i cristalli di ghiaccio del nostro gelato per essere ottimali devono essere molto piccoli. E dato che c'è una correlazione diretta tra la forma dei cristalli di ghiaccio e la temperatura, più la macchina è capace a sottrarre calore dalla miscela, quindi a raffreddare, in termini di velocità e di potenza, più piccoli saranno i cristalli di ghiaccio. E sono proprio questi cristalli di ghiaccio che ci aiutano ad avere una struttura molto fine e uniforme del nostro gelato. Del resto avrete notato la differenza che c'è tra la produzione di un gelato casalingo con una macchina che magari ci mette 45-50 minuti anche a fare poche centinaia di grammi di gelato rispetto ad un mantecatore professionale che in 7-8 minuti mi produce una vaschetta o anche due vaschette di gelato da 4 kg. La differenza che c'è tra queste due situazioni è proprio nella potenza, nella capacità della macchina di sottrarre calore alla miscela in tempi molto rapidi. Più è rapido il processo, più piccoli saranno i cristalli di ghiaccio che si vanno a formare. Tra l'altro il gelato è un prodotto complesso perché, oltre ad avere una buona quantità di acqua, contiene anche altri elementi, tra cui gli zuccheri, altri solidi come i grassi, le fibre, eccetera. Ma soprattutto gli zuccheri sono quegli elementi che si contrappongono al congelamento dell'acqua. Infatti hanno un potere anticongelante, cioè abbassano il punto di congelamento dell'acqua in funzione della loro capacità anticongelante. Ed ogni zucchero ha delle sue caratteristiche diverse, che magari in un altro video andremo ad analizzare. I cristalli di ghiaccio si formano a partire da un determinato momento, ovvero quando la temperatura della miscela scende sotto zero. E fino alla temperatura di meno 4 o meno 5 gradi, oltre alla cristallizzazione dell'acqua, ci sono altri fenomeni. La cristallizzazione dei globuli di grasso, ad esempio. Anch'essi hanno bisogno di essere appunto posizionati in modo uniforme all'interno della matrice. Abbiamo delle piccole bollicine d'aria che attraverso il processo di agitazione dentro la macchina si formano e vengono contornate dagli elementi che ne stabilizzeranno poi la struttura, che sono le proteine e i grassi. Durante il processo di mantecazione sono anche importanti gli stabilizzanti e le proteine, perché hanno proprio il compito di creare una struttura tridimensionale all'interno della quale viene imprigionata la bollicina d'aria, che nel caso ad esempio di un gelato alla crema, è circondata da un film proteico elastico, rinforzato da tutti i piccoli globuli di grasso che si posizionano intorno alla bollicina d'aria, trattenendola e quindi mantenendo quello che viene definito l'overrun del gelato. La sua cremosità, ma soprattutto il suo calore al palato. Sembra un controsenso parlare di calore al palato per il gelato, in realtà è una mancanza di troppo freddo, ecco, diciamo così. Un gelato ben areato, quindi con una buona quantità di aria dentro, ci risulterà meno freddo, perché i cristalli di ghiaccio, che devono essere molto piccoli, saranno molto distanziati l'uno dall'altro, perché l'aria non è fredda. Quello che noi sentiamo freddo è il cristallo di ghiaccio. Quindi la matrice del gelato è veramente molto complessa. Abbiamo uno stato areato, quindi una schiuma, l'aria. Abbiamo un'emulsione, perché l'aria, ma soprattutto i grassi e l'acqua, vengono in qualche modo legati e devono rimanere in equilibrio. Abbiamo una soluzione, quindi tutti gli zuccheri vengono sciolti all'interno della parte acquosa della nostra miscela. Non dimentichiamo che la miscela di gelato ha mediamente un 60% di acqua al suo interno. E poi abbiamo le sospensioni, che possono essere sospensioni colloidali, legate appunto alle proteine, oppure sospensioni delle fibre, come le fibre di cacao. Quindi il gelato è un prodotto piuttosto complesso. E nel meccanismo di mantecazione abbiamo la creazione di una struttura che necessariamente è debole. Perché tutto quello che vi ho raccontato avviene ad una temperatura negativa. Noi quando consumiamo il gelato lo consumiamo all'esterno, quindi a temperatura positiva. E allora è anche abbastanza naturale che il gelato nel tempo si sciolga. Però è vero che se io ho rispettato un certo equilibrio degli ingredienti, ho messo quelli che sono necessari per mantenere in più al lungo possibile la sua struttura ottimale, il mio gelato non mi si scioglierà istantaneamente sulle mani mentre lo mangio, ma avrà una sua vita di qualche secondo, se non qualche minuto, che mi permette quindi di consumarlo in modo agevole. La macchina del gelato di solito è composta da un cilindro, che ha il compito di raffreddare la miscela e nello stesso tempo farla agitare. Ci sono macchine con cilindri verticali oppure orizzontali, sicuramente all'interno ci vuole anche un sistema di agitazione. E qui può essere fatto con una pala o con sistemi diversi a seconda del tipo di macchina. La cosa importante è che i tempi devono essere rapidi, che il gelato deve essere raschiato dalle pareti e rimescolato al suo interno. È importante che ci sia questo movimento, perché abbiamo la necessità di far inglobare una certa quantità di aria all'interno del prodotto. Se non abbiamo questo fatto, e quindi il gelato ad esempio viene mantecato staticamente, non abbiamo più un gelato vero e proprio, ma abbiamo un prodotto che non ha aria, quindi molto compatto, come un ghiacciolo. Questo ci dovrebbe far capire anche un'altra cosa, che spesso alcuni cuochi, alcuni chef, propongono dei prodotti, chiamandoli gelato, che gelato non sono, perché anziché seguire il processo naturale di congelamento durante l'agitazione, subisce uno scongelamento, cioè attraverso dei frullatori si prende una miscela che è stata abbattuta a meno 18 e mantenuta in freezer e raschiata al momento con delle lame molto veloci, che ne creano una struttura quindi più calda rispetto all'originale. Quindi è un riscaldamento di una miscela. Non lo possiamo chiamare gelato, quello è un scongelato e ha delle caratteristiche completamente diverse. Quindi il gelato è una delle nostre eccellenze culinarie che avrebbe bisogno di un maggiore rispetto nel panorama della cultura gastronomica nazionale. A presto con un altro video.